Andiamo alle immagini che hai portato, che descrivono anche un po' questo momento di movimento dei cieli e delle nubi. Sì, ieri in gran parte della Sicilia orientale si è potuto assistere a un fenomeno, a una formazione nuvolosa davvero particolare. Iniziamo con la foto scattata da Alessandro Michalizzi, che ringrazio molto, da Messina, dal centro storico, dalla parte più alta della città di Messina, in direzione sud-ovest. E vedete questa pila di alto cumuli lenticolari, veramente letteralmente impilati uno sull'altro, fino ad altezze e ad arrivare alla sommità della troposfera. Restiamo in provincia di Messina, contemporaneamente, questa è una foto scattata nel pomeriggio di ieri, alle 17.30, Fernando Famiani, che anche ringrazio moltissimo, siamo restati in provincia di Messina, ma spostandoci nel parco dei Nebrodi, quindi dai peloritani ai Nebrodi, in particolare dal comune di Santiago d'Oro, che con i suoi 1.150 metri è uno dei centri abitati più alti di tutta la Sicilia, quindi in direzione sud-est, perché abbiamo cambiato punto di osservazione, e capiamo qual è l'orografia che ha innescato la formazione di questa formazione nuvolosa così imponente, cioè l'Etna, che vedete ha il suo cappuccio di nubi, ma quella pila di alto cumuli non è sulla verticale del vulcano, ma è dietro rispetto a questo punto di osservazione. Diamo qualche altra coordinata, il paese sulla piana, sullo sfondo è Bronte, mentre quello in primo piano è Cesaro, il cui palazzo del comune, poi alle 20.33, dopo lo vediamo acceso di tricolore, nella giornata della festa della liberazione dal nazifascismo. Questa immagine, paragonata a quella precedente, ci fa capire come queste formazioni nuvolose siano restate stazionarie, o per meglio dire in continua formazione, sempre però in posizione stazionaria, cioè si riformano sempre nello stesso punto, per molte e molte ore, quindi venendo avvistate da gran parte della Sicilia orientale. Siccome il caso ha voluto che ieri da quelle parti, ma sull'altro versante del vulcano, per la precisione a Catania, si trovasse anche il vostro affezionato meteorologo, mi sono appostato per voi, Ho avuto questa grande fortuna di poter scattare queste foto, innanzitutto dalla zona sommitale della Villa Bellini, del Giardino Bellini, lungo la Via Etnea, quindi nel cuore della città dell'Etna, appena antonomasi a Catania, qui vedete sulla sinistra si intravede la vetta dell'Etna, e sulla destra questa formazione, che poi mi sono appostato per riprendere da una splendida terrazza panoramica, sempre lungo la Via Etnea, affacciata su piazza dell'Università, a due passi da piazza del Duomo, e inquadrando più direttamente l'Etna, e questa formazione aspettando il momento in cui poi il tramonto affrescasse delle tinte rosate la parte superiore di questa vera e propria pila di nubi, che si formano nel momento in cui le correnti, che in questa foto immaginatele scorrere da sinistra verso destra, intercettando una vetta così alta come l'Etna, così come una corda di violino pizzicata dall'archetto e entra in oscillazione, subiscono lo stesso identico fenomeno. La particolarità è che in condizioni di colonna atmosferica stabile, come quella di ieri, con queste infiltrazioni umide che hanno comunque carburante per la condensazione lungo tutta la colonna, questa oscillazione si ripropone lungo tutta la colonna atmosferica, fino alla sommità della troposfera. Cosa succede? Che nella cresta d'onda l'aria ascendendo si raffredda, condensa e quindi dà luogo alla formazione della nube, mentre nel cavo d'onda succede la cosa opposta, l'aria scende, si riscalda per compressione e quindi dà luogo all'evaporazione. Questo fa sì che si formano queste nubi a lente proprio, da cui il nome è lenticolari, ma in questo caso sono duplicate e anzi moltiplicate lungo la verticale. Poi, queste ve le ho disegnate come se fossero su un piano ortogonale alla direzione di osservazione, in realtà erano trasversali le correnti, la foto è scattata esattamente verso nord, le correnti in quota piuttosto forti erano da nord-ovest, quindi scorrevano sì da sinistra verso destra, ma dal vulcano verso il punto di osservazione. Quindi questo ha fatto sì che questa formazione sia formata tra il vulcano e il punto di ripresa. Poi, con l'arrivo delle ore del crepuscolo, sono scomparse le dente del tramonto, ma forse è ancora più affascinante l'ora blu, quella in cui poi la dominante fredda torna a caratterizzare gli strati più bassi della nostra atmosfera. E poi, già che parliamo dell'Etna, questa è una foto dal volo di linea di stamattina con il mare sullo sfondo, con il sole che si riflette sul mare e il cratere che vedete qua. Quando tuo malgrado sei dovuto ritornare a Roma, perché so che hai apprezzato molto la nostra bellissima Sicilia. Grazie a tutti.